Giorgio Castronuovo della Direzione Marittima di Venezia, stati generale della pesca del Veneto, è un momento importante anche per voi? Sì, senz'altro sì, perché l'autoria marittima, in particolare la Direzione Marittima del Veneto, come ho accennato nel mio intervento introduttivo, è anche in uno centro di controllo aria pesca, con tutto ovviamente le incombenze e le responsabilità che ne derivano. Essere qui era un atto dovuto come istituzione, come soggetto competente nel settore, anche perché, come ho avuto modo di dire, l'obiettivo che si pone con questi stati generali è un po' raccogliere le file di quello che è stato seminato nelle giornate di studio dei lavori precedenti, questa volta con un focus più esteso, ad ampio respiro. Obiettivo nobile, ambizioso, perché ovviamente far dialogare le istituzioni e i players dell'economia credo che sia quantomai fondamentale. La sostenibilità è stata la parola ovviamente più utilizzata in questi quattro giorni. Non potrebbe essere altrimenti, anche qui non si può non ricordare come i pescatori nell'intero comparto sia veramente depositario di un sviluppo sostenibile e non potrebbe essere altrimenti. Quindi, come anche negli interventi che stiamo ascoltando, tra le due anime, quindi da una parte l'ambiente, dall'altra la pesca, è necessario che ci sia un coordinamento e un'unica voce. Grazie. Grazie.